Don Sandro Minarello, sacerdote padovano, arciprete di Dolo dal 2012, è mancato nella notte all'ospedale di Mirano dopo un repentino aggravamento della malattia che negli ultimi giorni aveva fatto precipitare le sue condizioni di salute. Un male aggressivo che si era manifestato solo nello scorso giugno. Don Minarello aveva 70 anni. Tra i vari incarichi precedenti è ricordato come assistente spirituale del seminario maggiore di Padova, cerimoniere e segretario del Vescovo di Padova Antonio Mattiazzo e arciprete di Selvazzano Dentro per dieci anni prima dell'incarico a Dolo. Qui domenica 12 agosto alle 16.30 ci sarà una veglia di preghiera. La salma di Don Minarello sarà poi trasportata lunedì 13 nella chiesa di San Gregorio Magno a Padova dalle ore 16, sua parrocchia a Natale. I funerali verranno celebrati martedì 14 agosto alle ore 10 dal Vescovo di Padova Claudio Cipolla nella chiesa arcipretale di Dolo. Grazie! Grazie, grazie! Forza. Grazie.